Il libro della Bibbia non è un libro qualsiasi, non è un volume da biblioteca, ma è la parola di vita. Dopo il Concilio Vaticano II i cattolici hanno riscoperto la parola di Dio, la Bibbia relegata a livello di cultura, di ricerca o di semplice ascolto sarebbe svuotata intimamente nella sua natura. L'Apostolo Giacomo ci mette in guardia, siate quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi, perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio, appena si è osservato se ne va e subito dimentica com'era. La parola della Bibbia, della parola del Signore, voi sapete che buona parte dei libri della Bibbia furono riscoperti nel Mar Morto perché erano state, sembra che erano state seppellite nelle grotte per scanzarli, per non farli prendere dai soldati romani. Sono venuti alla luce e questo è il grande dono di Dio. La grande scoperta dei manoscritti dell'Antico Testamento nelle grotte di Qumran ci richiama l'importanza di un confronto con la parola di Dio che si manifesta nelle vicende della storia dell'uomo. Il Concilio Vaticano II ha riconsegnato all'attenzione dei fedeli il messaggio di salvezza rinchiuso nella Sagra Scrittura. Ci troviamo di fronte al primo sacrificio ufficiale del popolo di Dio compiuto da Mosè e quindi nell'Antico Testamento vengono presentati alcuni interventi del Signore sul popolo di Dio dove si evince in modo grandioso la misericordia di Dio a favore del suo popolo. Per fare subito un riferimento alla vita di Padre Pio dobbiamo dire che già Padre Pio nel 1920 ecco di l'intorno e che si trovava già a San Giovanni Rotondo col piccolo gruppo delle terziarie che una volta e due volte alla settimana salivano in convento per la catechesi, e la catechesi. Padre Pio teneva il Vangelo o la Bibbia e leggeva dei passi o delle lettere in San Paolo o qualche parabola del Vangelo oppure qualche discorso di Gesù eccetera. Allora Padre Pio 1920, diciamo 25, già teneva come metodo l'istruzione, abituare quelle piccole anime, quelle donnette, c'erano soltanto 4-5 maestre in quel gruppo, poi le altre persone erano di terza elementare come erano i tempi di allora. Le educava a leggere chiara, a leggere poche righe della Bibbia o del Vangelo e poi interrogarsi oggi a me queste parole del Signore, queste parole che San Paolo ha scritto alla chiesa X, oggi a me che cosa dicono? Allora vedete che Padre Pio ha sempre avuto questa attenzione perché la Bibbia non fosse messa nello scaffale e guai a chi la tocca perché il massimo rispetto bisogna avere, no, usava la Bibbia anche con le donnette terziarie che venivano qui alla conferenza settimanale. Questo è molto importante, noi sappiamo addirittura di Sant'Agostino che ebbe la sua conversione proprio frequentando Sant'Ambrogio e una delle prime volte che entra, che voleva entrare nella camera di Sant'Ambrogio vide che la porta era socchiusa per cui poteva guardare e che cosa vide? Vide Sant'Ambrogio che leggeva la Bibbia poi chiudeva gli occhi e si fermava a meditare e questo ha fatto poi Sant'Agostino e si è convertito e si è legato al Signore. La Bibbia, la parola di Dio ci lega perché parla dell'amore misericordioso di Dio.